Se nel complesso sono 486 i positivi registrati nelle ultime 24 ore, 153 a Caltenissetta, in realtà il numero complessivo dei positivi sta scendendo di molto. C'è stato un boom di guariti, segno che la curva è in discesa. Infatti, quando il numero dei guariti supera quello dei nuovi positivi, vuol dire che l'ondata sta calando. Sono 1.564 i guariti nelle ultime 24 ore. Resta stabile il numero dei ricoverati, solo un ingresso in malattie infettive nelle ultime 24 ore. La pressione si sta diradando. Si abbassa anche il numero complessivo dei positivi in provincia, che va sotto i 10.000.